Dal 6 luglio prende il via la ventitraesima edizione di Armonie d'Arte Festival, festival di risonanza ormai internazionale dedicato alla intersezione tra le arti e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, archeologico e naturalistico della Calabria. Un festival che cerca un rinnovato umanesimo in cui musica, teatro, danza, storia, mito, natura, innovazione e creatività contemporanea si intersecano nel segno della cultura dell'armonia come valore etico ed estetico, individuale e collettivo. Quasi tre mesi di appuntamenti imperdibili che si snoderanno tra alcuni dei più suggestivi siti della Calabria. Un festival ormai storico di cultura e arti performative con grandi nomi internazionali del mondo della walk, incontri, workshop, progetti speciali. Un festival artistico internazionale, epicentro di cointeressenze mediterranee, luoghi eccezionali della storia e del paesaggio che raccontano approdi lungo le rotte del mare Nostrum, una rinnovata narrazione e quattro temi del nostro tempo, cultura, natura, salute e pace. Una gora contemporanea, materiale e immateriale, dove il valore dell'arte e della cultura sono celebrate per il loro potenziale salvifico. Arte e cultura, dalla notte dei tempi, sono state il conforto nelle avversità, il conforto nelle possibilità dei viaggi difficili, sono state l'argine per le antiche nuove barbari. Ecco, è allora che un festival che pur ha vissuto gli ultimi anni di grandissime criticità, difficoltà di ogni segno in verità, oggi guarda al futuro con rinnovata fiducia, non ha mollato e quindi oggi può dire che essere partecipi del dibattito globale è una possibilità reale per la Calabria, oltre che per Armonia d'Arte.